A cosa serve l'arte del passato oggi? A che cosa serve il patrimonio storico-artistico? A cosa serve la storia dell'arte? A questa domanda, dalla Grecia antica fino al Rinascimento, si sarebbe risposto soprattutto serve alla pubblica utilitas, serve al bonum comune, al bene comune diremmo oggi, serve all'universale, dice per esempio la proibizione di esportare dal territorio del Gran Ducato i quadri di alcuni artisti limitando significativamente la proprietà privata, siamo all'inizio del 600 a Firenze, a favore del bene dell'universale, cioè di tutti. E quando Alberti, alla fine di questa tradizione, parla della cupola di Brunelleschi, di Pippo Brunelleschi, quando dice che la cupola con la sua ombra copre i popoli toscani, non usa una formula retorica, ma dice benissimo, in modo commovente, come ci fosse un rapporto profondo fra la forma dei luoghi, la forma, la formazione dei cittadini, la forma dello Stato. Questa tradizione, certo, prevedeva anche l'arte come forma di intrattenimento privato, ma lo prevedeva in un ruolo decisamente subordinato rispetto al compito di costruire la pubblica utilità, di costruire la società. Questa tradizione è una tradizione che non si spegne durante il Medioevo. Nel 1162 i senatori romani decretano che la chiesa e la colonna traiana sono di proprietà di una certa badessa, sono in quel momento di proprietà privata, purché, scrivono, sia salvo l'onore pubblico della città di Roma. È a questo che serve il patrimonio, all'onore pubblico della città di Roma. Pertanto, la colonna non dovrà mai essere danneggiata né abbattuta, ma dovrà restare così com'è in eterno, per l'onore del popolo romano, finché il mondo duri. Se qualcuno attenterà la sua integrità, sia condannato a morte e i suoi beni incamerati dal fisco. Una proposta di aggiornamento della tutela che non sarebbe male fare il prossimo governo. Certo, una misura draconiana, ma la colonna traiana è ancora lì.